Ciao, sono Deborah, sono una volontaria AIL dal 2007 e stiamo qui vendendo le uova dell'AIL per la ricerca contro la leucemia, l'infame e melone. Diamo vita alla ricerca. Accostare l'uovo è importante, così da aiutare la ricerca e i malati. Io sono volontaria dal 1989 perché due anni prima sono stata paziente del professor Mandelli. Ho avuto l'infoma di Hobscheng e se io sono paura lo devo tutta l'unione. È una cosa che mi riempie di grande gioia. Andate su www.il.it per cercare la piazza per l'uscita. Sono Rosi Malari, sono di 23 anni, sono volontaria anche in un'associazione. Sono curiosissima di essere in un'attività comunitaria per questo mondo. Sono Gabriella, sono volontaria AIL da molti anni, sono contenta di esserlo. Comprate un uomo, è molto importante perché questo aiuta comunque non solo i malati, aiuta la ricerca, costa 12 euro, è importante.